Pochi giorni fa in Consiglio regionale difendevo il diritto e l'obbligo di dare i servizi essenziali a Polinago. Il wifi a Polinago è fermo da anni, gli ospedali, il punto nascite di Spavullo non viene riaperto, sono due facce della stessa medaglia. Abbandonare questi servizi essenziali, le strade, l'ospedale, il punto nascite, il wifi, una rete di commercio efficiente, sono tutte facce della stessa medaglia. Se noi vogliamo che la nostra montagna viva, che il Fregnano viva, è necessario che chi abita queste zone già disagevoli, soprattutto per i trasporti, basta una nevicata, basta la nebbia, basta una strada con una frana che tutto si blocca, tutte queste famiglie, queste persone, un'intera società ha bisogno di servizi essenziali. Bisogna che non si facciano scelte assolutamente economiche perché altrimenti con le scelte dei tecnici non si va lontano. Bisogna che il punto nascite di Spavullo venga riaperto in modo da dare un segnale alle famiglie della montagna modenese che qui si può vivere e prosperare. Se non ci sono queste condizioni, il Fregnano lentamente verrà abbandonato e questo è impossibile da poter prevedere, da poter accettare.